a fisciare seduto a costretto dovevo fare una ristrutturazione da lei lei diceva voglio due bagni dicevo perchè lui gli smiscia no no però la questione di distinzione tra sessi no ovviamente lo costringo a sedersi perchè tua moglie no la moglie che ci prova la lascia all'istante ma lo sai che c'è il mania c'è un termine pensa quando questa cosa è infiata del tuo studio gli identica che le persone che le ha cioè fa la pipì in piedi? ma perchè voi uomini non la fate in piedi? no certo io sono un uomo che fa la pipì in piedi vuol dire una persona un po' più potente un po' dura non l'avevo sentita ma anche lui fa i pipì in piedi anche io la faccio in piedi ma io ho conosciuto una ragazza che effettivamente la faceva in piedi ma con l'aggeggio quello per... con l'aggeggio quello per... cioè l'aggeggio quello per farla in piedi cioè l'aggeggio come l'hai postato tu? quello per mettere la cosa di cartone che fai la pipì in piedi quando sei in viaggio ma quando? è schifo Rachel ma quando? quando? ti vogliamo un po' di vino dai c'è... faccio una foto al Monte Pulciano è lui l'artefice di tutto